E' un confronto che conserva sempre un certo fascino quello con la Juventus. Meglio ancora se la squadra bianconera, come da tradizione, viaggia nelle zone alte della classifica. Domani sera a Torino il Catania dovrà fare i conti con un avversario in salute, secondo in gradatoria, ma con una partita in meno rispetto al Milan che sta a un punto sopra. Unica formazione imbattuta in campionato, la Juventus può contare su di una difesa davvero tetragona, appena 13 gol subiti. Anche per questa ragione forse Montella, che ha convocato 20 elementi, potrebbe confermare un modulo sbilanciato in avanti, un 4-3-3 con Cosischi in porta, Motta alle Grottaglie e Spolli Marchese in difesa, Izz Colodi al Miron sulla linea mediana e in avanti l'affilato tridente composto da Barientos, Berghesio e Gomez. E nella conferenza stampa di stamani il trainer rosso-azzurro ha inteso tirarsi fuori dalle polemiche della vigilia sui presunti torti arbitrali subiti dalla Juventus in occasione della gara con il Parma. Credo che si possa dire che veramente fino adesso gli arbitri, in senso generale, addettati tutti, stiano facendo un grandissimo lavoro. Naturalmente non credo che ci possa essere un disegno, e lo dico disinteressatamente, un disegno contro la Juve, altrimenti avrebbero dato il primo rigore che probabilmente c'era su Giovinco, se ci fosse stato un disegno per danneggiare la Juve, però questa è la mia analisi, perché poi sono andato anche un po' a fondo nell'argomento, ma sinceramente credo che questa poi sia la realtà. Domani a Torino fischio d'inizio alle 20.45, dirigerà Brighi di Cesena, assistenti Tonolini e Barbirati, quarto uomo a Gava. Non è accadere che possa sbagliare l'arbitro sabato, ma non credo che ci sia un disegno anche da parte, eventualmente da parte sua, l'errore fa parte del gioco e deve essere l'arbitro, e credo, sono sicuro che sarà così, dovrà essere sereno anche di sbagliare serenamente. Montella lo dice chiaramente, nessun timore sull'operato di Brighi, l'arbitro della partita di domani a Torino, nonostante le lamentele dell'allenatore della Juventus Conte, della società bianconera che ha anche diramato una nota ufficiale dopo la partita di Parma. L'omonaco ha già risposto per le rime, Montella stempera gli animi e non casca nel tranello quando gli chiedono di Conte. Io con Conte ci ho giocato anche il nazionale, è un ragazzo anche simpaticissimo. E poi quando sei primo, difficilmente ci sono allenatori primi in classifica simpatici, per gli occhi della gente intendo. Esaurita la questione arbitrale si parla della partita della Juve. Montella ha grande stima per una squadra che quest'anno non ha mai perso. Noi saremo lì a giocarci le nostre carte, provando a fare del nostro meglio e magari perché no vincere la partita. Ma questo può succedere soltanto se Catania fa una partita straordinaria, sperando che la Juve gioca di sotto delle proprie possibilità. Le partite decisive per noi saranno le due che seguiranno Torino, aggiunge il tecnico, che però vuole provarci con la Juve con un occhio di riguardo per Pirlo, ma senza snaturare la squadra. Si va verso la conferma degli undici che hanno stravinto col Genoa. Anche Kosicki ha meritato la chance di giocare contro una Big. Mi sento di dire che sarà domani lui portiere, ma la mia non è affatto una scelta definitiva perché abbiamo anche altri portieri.